Planet music 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 tamburello è uno sport che non conosce nessuno ma esiste questo sport amici di Planet continua il pianeta del divertimento e dove c'è divertimento arriva Planet con le telecamere quindi arriva Marco Vigiani Laura Lucafondi e il nostro staff che è fatto da tante persone in questo momento con noi c'è Massimiliano e il principe il tamburello è il piazza delle cascine nella zona delle cascine dove c'è un locale che d'inverno è nel pieno dello sport gioca a Tammurello e d'estate invece c'è il gioco delle coppie perché c'è tanta gente tante ragazze si incontrano qua e passano un'estate meravigliosa e il tamburello andiamo divertiamoci music ci sono due punti c'è una parte di là e una parte di qua la parte di qua si mangia carne e di là pesce i primi e poi potete venire e mangiare una grillata favolosa c'è il signor Augusto augusto ne conoscevo uno da gusto ne ho fatto anche delle statue c'è scritto passa parola cioè quindi devo dirlo cosa devo dire no dirlo se passa parola io passa parola ci faccio più i pesci cicale vero si la cicale è la prima cosa si piace i pesci i amberoni non ci piace si ma si dà si 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 dà si dà si dà si dà si dà ti chiami mordini franco mordini franco codice questa è la simpatia di qui sei un grande freddo ci dà la simpatia tra no male la parte di là favolosa favolosa la parte di là è la cosa più bella che mi piace e che si dà ciao come on 1 2 3 4 è l'onor è l'onor per il Massa G show once upon a time not long ago when there was no rap stars on TV shows no movie deals commercial but as soon as was just start and grow in them days when you took up the art you did it second for the money and first for the hard back then you had to be a true believer and we all hung at the disco fifa aaaa in l'unior pirata Buonasera e benvenuti al Damburello Summer Te la presentiamo anche prima assoluta Il marchio Bahia Il marchio che ha già inondato la città da almeno un anno a questa parte Un marchio che probabilmente molti di voi già conoscono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti